Il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Vandaferro, presente oggi all'Aquila in occasione della giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa, la cui celebrazione è inserita all'interno del premio Borsellino. Tantissimi studenti all'auditorium del parco anche oggi per un'altra giornata ricca di significati, che li accompagnerà fino ad ottobre con la consegna del premio dedicato al magistrato, un momento emozionante per ricordare e commemorare la stagia di Capace a 31 anni dalla morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta. Un momento di confronto e riflessione importanti per continuare a trasmettere ai giovani l'amore per la propria terra che nel caso dei giudici Falcone e Borsellino ha significato il sacrificio della propria vita, il valore e l'importanza della legalità e della giustizia. Una città importante qui all'Aquila dove ritorno dopo tanti anni dalla famoso e tremendo terremoto ma ancora di più una giornata che mi vede presente per scelta qui attraverso un'iniziativa che ha, devo dire, tanti anni alle spalle ma che vuole lanciare un messaggio ai giovani, quel messaggio di difendere libertà e democrazia in un momento in cui, devo dire, tanti sono stati i colpi che abbiamo dato alla criminalità organizzata ma non nulla è stato sconfitto se non in parte ancora c'è un percorso da fare che non può essere solo quello della repressione ma sicuramente quello culturale. Questa edizione è molto importante, la 31esima, perché per tutto il 2023 coinvolge il Comune dell'Aquila che tiene molto a questa iniziativa. Il giudice Giovanni Falcone spiega il sindaco rappresenta un simbolo per la mia generazione. La storia ai ragazzi è importante non soltanto per conoscere le vicende che hanno segnato il periodo recente della vita della nostra nazione, anche un'educazione ai temi della legalità, dell'onestà che vanno coltivate sin da giovani. E poi Falcone rappresenta anche un simbolo per la nostra generazione, per quella dei cinquantenni di oggi e mi ha segnato uno spartiacque soprattutto in chi in quegli anni ha dedicato un impegno importante alla politica. In quegli anni, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda la mia generazione, trasfigurammo pure un po' l'iconografia di riferimento e sicuramente Falcone, Borsellino, i ragazzi della scorta, ma anche gli studenti di Tiananmen, quelli che salivano sul muro di Berlino caduto, diventarono il nostro pantheon di riferimento.